No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 Lello Sette! Come fene? Come gli date, retto? Lui è mio nipote, Lello Ma me lo sai, la gente mi vuole beh Le E completate le parole Le E parliamo in questo modo No Cioè, tutta la giornata Ma faremo scimoni? Sì E sono d'accordo con me Sono d'accordo con me Zio, finalmente sono bello Sì, è bellissima Questa cosa che tutti È una cosa stupenda Io sto cercando anche Col fatto che tu mi dici di non andare avanti Capito? E cerco di rimanere dritto Parlando lentamente Sì Visto? E ci penso attentamente Sì E così non mi rocchio niente Perché tu non devi andare indietro Devi stare dritto Guardare davanti Non ti devi sforzare Adesso chiudono loro Quindi qual è il problema Quindi è tipo una cosa Però la cosa più bella è Instagram Come sta andando? Una belle Sa Chi sanno tu Sì Ma questo pure quando vai dal tabacchi Che ne so Vai a salomerie Sì Tutta la managgia te Metto di prosciù So Ehi tu sai che merisci Eh? E un et2 che facci la? So È così È così Fantastico Li contattano addirittura le compagnie d'abbigliamento per fare le pubblicità Sì? Ho fatto la foto col maglioncino e ho preso follower Ho fatto la foto con i jeans e ho preso follower Ho fatto la foto in motande E l'hai preso follower No pittiva la dignità Allora sì Sogno c'ho così Oh Lo sanno Tutte cose Cioè qualsiasi cosa dici Sì E poi sto provando anche con le ragazze a cambiare Tu mi hai detto non chiamarle Giorgio Eh E l'altra volta c'era una giata di spalle e ho fatto a chiamarle in maniera elegante Vediamo E ho detto Ehi! Donna bellissima Bello e lei? Un suggerò E infatti la fa chiamare Oh! Giorgio Ma se non dici E' automaticamente metallo E lei ho detto queste tessuali parole Sì Io per te farei il ma Sì Eh che cosa? L'ho capitato ancora io Il ma? Toh Ok Era facile Era facile Io per te farei il ma Toh Bravi Firmerei anche un contrat Toh Mi avvicino con uno ska Toh Te lo dico sei un gatto E gatto perché hai detto tu? Pichiccia via i baffi Sì 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 Sì